che poi c'è questa cosa che quando c'è la scritta you are now live si avverte come un piccolo, uno sfriccichio un aumento del battito cardiaco un po' di emozione che ci sta ci sta, buonanotte eroi buonanotte, benvenuti al consueto appuntamento del lunedì con la lettura interpretata di brani scelti da opere letterarie varie questo lunedì ho scelto per voi una lettura molto interessante molto particolare che richiede anche un po' di tempo quindi vi invito di già a mettervi comodi lo so che adesso arrivate alla spicciolata poi c'è la gara, arriva prima Michi la gazzella ormai si è persa nella foresta arriva sempre per ultima, gazzellina mia Elena è arrivata, Roberto, eccomi anche lui ragazzi, benissimo sarà una notte molto speciale perché il capitolo che sto per leggervi è un capitolo innanzitutto contenuto dal libro l'ultima opera letteraria di Paolo Crepe Vulnerabili di cui vi consiglio sicuramente l'ascolto l'ascolto, l'acquisto l'ascolto, beh certo perché sto leggendo la pagina che ho scelto ed è una pagina speciale anzi un capitolo speciale che si intitola Memoria, Ricordi, Malinconia e Bellezza e poi capirete perché ho scelto proprio questo capitolo perché è il tradunione tra questo libro e il progetto di Ondina il saper cogliere anche in momenti assai sfidanti al di là dell'apparenza delle circostanze che comunque sono quello che sono il buono il bello e questo atteggiamento se coltivato nella vita di giorno in giorno ci porta davvero a vivere una vita degna di essere vissuta perché poi è un atteggiamento che portiamo nella vita quotidiana anche per le piccolissime cose non solo per quello che è successo nel 2020 perché tutto può accadere dietro l'angolo il cigno nero capita le cose capitano e conservare un'attitudine che è lì per dimostrarti che comunque da ogni evento nasce qualcosa di buono per te ti costringe in qualche modo a smuoverti a lasciare la tua zona di comfort per andare da altre parti esplorare la vita in tutte le sue sfaccettature vabbè insomma ragazzi in quante siete? in quanti? oltre che quante? non voglio offendere gli ometti Alessandro ciao Laura ecco Laura si è messa a letto con due cuscini speriamo che non vi addormentiate a metà lettura ragazzi perché è un bel capitolo e dura parecchio Digital Generation non mi è dato di capire chi sia comunque ti saluto Francesco Graniero ciao Francesco Roberto Vigini Elena Pontini Michi che è stato il primo adesso arriverà anche la gazzelletta ecco allora ragazzi allora innanzitutto prima di partire ho un annuncio bellissimo da farvi siete pronti? ma proprio bello 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 vi piacerà tantissimo segnatevi in agenda questa data che è molto importante il 22 dicembre cade di Monday Tuesday quindi è martedì sì esattamente martedì 22 dicembre alle ore 22 così è 22 e 22 c'è la reunion di quattro doppiatori quattro voci di altrettanti personaggi di City Hunter quindi cari fan di questo cult che ormai è un cult conclamato è diventato addirittura un lungometraggio è uscito nelle sale cinematografiche l'anno scorso vi ricordate? insomma è stato un bel match ritrovarsi riunirsi ridare la voce ridar vita a questi personaggi che sono i personaggi del vostro cuore quindi ci saranno in diretta in live streaming sul tubone e in contemporanea sulla pagina di Facebook sul profilo di Facebook Jasmine Laurenti una reunion sono riuscita a dire di Vittorio Bestoso che ha dato la voce a Falcon Patrizia Sianca che ha dato la voce al personaggio di Selene Guido Cavalleri ovviamente il protagonista assoluto che è Rio City Hunter ok e la sottoscritta in qualità di Kaori Makimura Sianca non Sianca Sianca c'è una N in mezzo Roby ok ecco quindi immaginate che tripudio che gioia che spettacolo poterci ritrovare mi raccomando preparate le domande Patrizia Sianca Sianca proprio lei proprio lei eccoci quindi l'annuncio l'ho fatto voi siete preparati avete già assegnato in agenda grandissima Patrizia allora poi un'altra cosa che ci tengo molto a fare voglio salutare se vi chiedete cosa abbiano in comune tutte queste persone queste persone sono i pionieri che con me stanno sostenendo il progetto di Ondina che ha lo scopo di accendere nelle persone il desiderio di saperne di più sulle parole sul loro potere creativo per diventarne consapevoli migliorando il loro dialogo interiore e comunque la qualità della loro vita quindi un caro saluto un abbraccio speciale alle persone che ho già nominato per proprio dire sono felice che siate in un team bellissimo e siate entrati a far parte di una community meravigliosa della quale potete ovviamente quando volete entrare a far parte anche voi scegliete l'ondina che preferite e so che si parte e si salta ok bene siete pronti ecco Laura new member eccola che è arrivata perfetto eccoci qui allora ragazzi pronti cuscino tisana io non mi interrompo più anche se avrò un po' di sete perché mi sono dimenticata di prendere il bicchiere ma ho un fondo di bottiglina questa è la bottiglia di ondina ve la faccio vedere incisa a sabbia guardate che meraviglia ed è blu perché riproduce l'ambiente in cui l'acqua si sente a proprio agio il vetro è praticamente sabbia e quindi io metto l'acquina al sole a raccogliere tutti i raggi e così è un'acqua proprio bella molto informata si dice ok fatto tutto sono pronta a partire con questo capitolo che ha un titolo lunghissimo ed è lungo pure il capitolo quindi ve lo dico di già probabilmente qualcuno di voi magari si appisolerà ma spero di no perché è una poesia è una cosa bellissima credo il capitolo più non voglio dire più bello perché tutta quest'opera è meravigliosa ve la voglio far vedere un regalo di Natale una strena meravigliosa vulnerabili di Paolo Crepe lo dicevo proprio un momento fa su Instagram vulnerabili che sta a significare che il periodo storico che stiamo vivendo ci ha visti a un certo punto consapevoli della nostra vulnerabilità ma la vulnerabilità tesoro Anna Fattina ma la vulnerabilità non è una cosa da considerarsi mamma mia sono vulnerabile allora che devo fare no è un valore importante perché si parte da qui dalla nostra vulnerabilità per vedere in faccia la realtà e la nostra verità ok e partire da qui per far tesoro di quello che sta accadendo e trarne il meglio ed è di questo sostanzialmente che parla il professor Crepe che avremo nostro ospite venerdì prossimo in occasione del Soul Talk sul canale premetto come ho già preannunciato su Instagram sono fusa ragazzi cioè mi beccate le momento storico proprio di stanchezza per cui godetevi le papere è una diretta andrà come andrà io mi sono già come dire preparata all'idea di ridere assieme a voi ma il contenuto è serio ed è importante quindi mettetevi comodi adesso si parte memoria ricordi malinconia e bellezza nelle lunghe settimane di prigionia in quel periodo sospeso c'è stato qualcuno come me che si è ritrovato a ricordare anche se non ne avessi avuto voglia o non fossi stato pronto qualcosa nel mio cervello ma credo anche in quello di molte altre persone è scattato come il nastro di un vecchio registratore che lentamente si riappolge senza rumore senza scricchiolì senza nemmeno muovere la tristezza come l'impellenza di scrivere un diario che non era mai stato aggiornato e che ora misteriosamente riparte aprendosi piano piano un automatismo dell'anima si potrebbe dire è il regalo che il lungo periodo di quarantena ha fatto ad alcuni di noi l'improvvisa frenata delle vostre e delle nostre vite l'inerzia che ci è stata imposta l'impossibilità di varcare il portone di casa forse non hanno cambiato per sempre i connotati della nostra vita ma ci hanno permesso cose dalle quali probabilmente la fretta quotidiana le impellenze cui ci eravamo costretti il vortice fagocitante della nostra produttività ci avevano distratto ci eravamo convinti che si potesse vivere senza pensare troppo perché la superficialità è più rapida a volte perfino consolatoria consente di fuggire i nodi delle nostre esistenze soprattutto quelli scomodi sarebbe ingiusto dire che è emersa soltanto noia fragilità angoscia perché abbiamo trovato anche qualcosa di meno aspro e severo un conforto che si alimenta con il poco con il nulla a cui non eravamo più abituati semplicemente sedendosi su una poltrona circondati dal silenzio e da quel cuscino è iniziato un viaggio che definire a ritroso sarebbe incongruo e restrittivo perché c'è qualcosa di miracoloso in questo vagabondare come un vecchio albero di Natale abbandonato in un angolo di un remoto salone e che improvvisamente si riaccende prima una candelina quasi consumata poi un'altra di un colore diverso poi ancora una più grassottella che piega un poco il ramo su cui è miracolosamente invilico poi tutte insieme a illuminare la lancia infilata sulla punta della pianta e alla fine proprio da quella vecchia poltrona che quasi avevi dimenticato di avere vedi il vecchio abete malconcio riprenderti l'anima quasi a sfidarti sono i ricordi che affiorano magari aiutati da qualche telefonata a un vecchio amico o a un'amica di troppo tempo fa oppure da una fotografia spuntata come un folletto dall'ultimo cassetto di una scrivania o scivolata dallo scaffale più alto della libreria in quelle giornate allungate ho imparato a stendere i miei ricordi come panni al sole su una terrazza in cima a un palazzo mi è tornata in mente quella della mia prima casa a Roma quel ponentino che sollevava delicatamente le lenzuola o le tovaglie appese con le mollette di legno lungo un filo teso tra un palo arrugginito e un altro ci sono salito poche volte troppo poche lo avessi fatto avrei sentito una volta ancora che era una magia anche se non potevo sapere che quei panni avrebbero rappresentato tanti anni più tardi i teli su cui avrei proiettato i lunghi passi della mia esistenza ma quelli erano gli anni in cui correvo come se avessi avuto dei petardi sotto le suole delle scarpe volevo volare volevo scappare per proteggermi da un'idea di morte che prematuramente mi aveva colpito eppure in questo improvviso silenzio tutto riavvolto in quel nastro è tornato nel buio ovattato della mia crisalide domestica così almeno è capitato a me in quel tempo quattro mi sono improvvisamente accorto e forse non sarebbe accaduto senza l'isolamento cui sono stato come tutti costretto di quanto lungo sia stato il cammino percorso di quanta bellezza e di quante gioie e lacrime si sono sparse come spruzzi di mare su scogli porosi sono comparsi come incantesimi i riferimenti della mia vita le idee e le persone gli eroi e i farabutti gli amori e le dolcezze la grossolanità e l'inganno le innocenze e le malizie i sapori e l'eco dei risate sfocate sono apparsi viaggi lontani appuntamenti con un destino non sempre amico riconoscenze non cercate applausi imbarazzanti e qualche mogugno e contemporaneamente come musica di sottofondo i miei sensi di colpa che mai veramente ho capito ne capirò da dove venissero come in un grande circo più che in un teatro già che chiunque appariva non aveva un ruolo e non doveva cercare di recitarlo ma semplicemente dare un segno di sé della sua presenza alcuni non lo hanno potuto fare perché lungo tutto questo cammino mi avevano lasciato troppo presto ma nemmeno quelle assenze sapevano d'amaro pure una lacrima trattenuta in gola può avere un sapore di riverenza per la vita tutto si componeva dopo il vocio dei tanti anni passati ed emergeva finalmente con passo felpato un po' di verità in fin dei conti questo silenzio questo distanziamento dalla realtà delle persone e dalla quotidianità ha prodotto qualcosa di imprevedibile ha ricomposto un senso altrimenti perduto perché mille volte fratturato dalla fretta scomposto dalle priorità del momento dalle illusioni dalla vanità aguzzando la vista su quell'albero appesantito dalle candeline ho riassaporato la vita l'esistenza al netto del superfluo dei giochi fatui cui mi sono prestato e allora ho scoperto il senso del silenzio che mio padre cercava tra Mozart e i suoi libri stanco delle corsie d'ospedale affollate di povere anime che tossivano fino alla morte e che lui gentilmente auscultava ho capito meglio quel sorriso a metà tra l'ironico e il malinconico di Franco Basaglia appoggiato con i gomiti su una scrivania o su un tavolo delle nostre osterie in giro per l'Italia ho dato un senso finalmente allo sguardo senza parole con cui mia madre mi seguiva da lontano senza mai intervenire nelle mie scelte o nelle mie fughe era riuscita ad amare anche quelle donna straordinaria forse sapeva che un giorno mi sarei fermato e avrei compreso senza rammarico senza troppa nostalgia che lei non se n'era mai andata ci è voluto un'epidemia e tutto quel silenzio per capirlo se non ci fosse stata quella improvvisa interruzione della corsa se il palio non fosse stato fermato se un virus non avesse inopinatamente tirato il freno d'emergenza questo mio nostro treno avrebbe continuato la sua corsa sempre più veloce e noi avremmo perso l'idea di un viaggio magari più lento non ci saremmo accorti di qualche stazione in più anche a costo di arrivare a quella successiva fuori orario è stata quella leva le ruote bloccate sui binari le scintille che si sprigionavano da quell'arresto non voluto e non cercato ad aprirmi lo sguardo su ciò che mi è mancato per tantissimi anni una sorta di album di fotografie di brevi scene di un film per fortuna non ancora finito di girare mi ha fatto ricordare l'odore di sapone di Marsiglia che arrivava gentile dai panni stesi sulla terrazza romana non si tratta soltanto di una memoria olfattiva ma del coraggio di tornare a scoprire ciò che non mi ero raccontato ciò che avevo omesso per reticenza o superficialità per paura della mia stessa fragilità della mia identità imperfetta sto parlando della mia esperienza ma immagino di non essere stato il solo ad averla avvertita un'esperienza per certi versi spiazzante imbarazzante perfino come quel senso di quiete che ha emerso e che improvviso mi ha pervaso ma che non a tutti ha fatto piacere provare quel sentimento di indecenza che a qualcuno ha fatto evitare perfino di guardare dalla propria finestra le strade desolate come tapirula un vuoti la costrizione l'isolamento hanno insegnato a pensare e questo a volte è anche molto doloroso perché ti accorgi che sul nastro che si srotola davanti a casa in una di quelle notti troppo lunghe c'è anche qualche tua valigia che si allontana e si perde nel buio naufraga di te so bene che per me quelle candeline nessuno le potrà rimpiazzare so fin troppo bene che alcune non mi ricordano nemmeno e che altre ancora si spegneranno a breve eppure qualcosa in quella visione è riuscita a scoprire un lato di me che non volevo mostrarmi la mia vulnerabilità nata da tanti tentativi e da tante sconfitte da qualche meravigliosa vittoria mischiata a un mio privato senso di lagunare melanconia come piccoli ossicini che improvvisamente iniziano a dolere ricordandoti che sta per cambiare il tempo e che la vita ha girato un'altra volta quella boa e più ti illudi di avvicinarti alla prossima più sei certo che ti stai allontanando da quelle che hai svoltato tanto tempo fa con destrezzo o con dolore con rabbia o con piacere con calma o con furore ma che sono alle tue stalle il grande fermo mi ha costretto a ripensarmi a rivedermi come sono realmente senza i vestiti di scena che troppe volte ho e abbiamo indossato e mi è apparsa una vita così che scorre come un ruscello di montagna saltellando da un sasso muschioso a un altro piegando repentinamente o formando placide distese d'acqua limpida per poi proseguire tumultuosamente con schiume e portici verso un luogo che non conosco e non voglio nemmeno nominare ma che so che mi costringerà a mischiarmi in un grande mare che non sarà più soltanto mio se non ci fosse stata una poltrona se i sensi di colpa di non essere impellentemente produttivo non si fossero almeno per un attimo placati io di quell'albero non mi sarei nemmeno accorto e nemmeno avrei trovato il coraggio di girare rigirare tra le dita quelle fotografie fino a risentire gli odori della storia che vi era appiccicata come polvere di cannella adesa un cucchiaino dell'infanzia che riconosco tra mille odori tra mille posate non è dato sapere quanto durerà questo effetto della reminiscenza e della saggezza e del coraggio di provare a fare un bilancio provvisorio della cavalcata che da ragazzo mi ha fatto uomo e poi vecchio però so per certo che è arrivato un momento che non puoi rimuovere perché sarebbe scelerato cancellare ciò che è accaduto per destino e per volontà e che ora si palesa come contagio della memoria altrimenti questa immane shagura avrebbe soltanto distrutto e non anche costruito dentro ognuno qualcosa di nuovo e di fondamentale spero che queste mie riflessioni non appaiano al lettore romanticheria un po' banali di un signore poco indaffarato anche se mi rendo conto che probabilmente ci sarà anche chi le troverà melense come le lamentele di un vecchio pescatore gli occhi arrossati da sole e malinconia le mani segnate da sforzi e faticose conquiste metro dopo metro della sua rete ormai lucora vorrei semplicemente dire a questo scettico lettore che ciò che ha un adulto e concesso fare oggi in una situazione così surreale è proprio questo osservare e ascoltare la propria vita come un grande film in cui le nostre parti i nostri ruoli e quelli di chi ci ha accompagnato fin qui sono stati comunque sempre straordinari l'esistenza deve essere srotolata come una lunga striscia di stoffa preziosa osservandone colori e trama ma anche buchi e ricuciture me lo aveva insegnato Cocchi una signora che lavorava in una bottega che sarebbe potuta essere a Costantinopoli mi chiamava quando era di ritorno dai suoi viaggi a oriente fino alle porte di Samarkand e anche oltre entravo in quel sucno strano mi sedevo su una montagna di tappeti e lei senza far parlare altro che il suo sorriso prendeva una delle tante strisce di seta per far risaltare i colori i profumi che ancora trattenevano la storia che custodivano come uno scrigno d'argento e il tempo passava in silenzio immaginando quei luoghi quelle strade polverose quei vecchi seduti sui talloni che stringevano un bicchiere di tè alla menta e pinoli per godere di tutto questo occorre tempo e umiltà ciò che rischiavamo di perdere se non ci avessero fermati c'è chi invece ha pensato che la vita soprattutto negli anni in cui tutto doveva correre veloce ed essere efficiente avesse solo la prospettiva dei nostri occhi davanti a noi senza esitazioni né tupi guardare indietro avrebbe significato rallentare la grande corsa così abbiamo perso l'attimo quello che ci parlava ma che non ascoltavamo questa crisi ha insegnato a ben vedere una via più giusta riconoscere senza paura chi siamo stati e chi siamo diventati per dire ciascuno a se stesso che siamo spaventati e vulnerabili e che finalmente non abbiamo paura di esserlo per molti purtroppo non è stato esattamente così e questa lunga pausa ce lo ha insegnato egregiamente forse non hanno capito o non sono stati disponibili a comprendere che c'è qualcosa di futuribile anche nel nostro passato i ricordi non sono malinconie di tempi definitivamente trascorsi né chincaglierie impolverate ma aiuti opportunità punti di riferimento per intravedere un futuro diverso da quello che è stato complice di questo immane disastro se penso ai miei anni giovanili rievo costati d'animo e sentimenti che ne sono assolutamente certo possono essere utili per disegnare il futuro delle nuove generazioni soprattutto l'affetto e la gioia molti dei cambiamenti che hanno mutato il panorama dei decenni passati sono stati resi possibili al di là delle condizioni storiche e sociali da qualcosa che forse per molti è sembrato un tempo minore e che invece è stato l'humus il fertilizzante di ogni avanzamento di ogni conquista e parlo appunto dell'amore e della gioia la storia dei movimenti giovanili degli anni 60 e 70 forse anche come contrapunto dell'autoritarismo che aveva contraddistinto le decadi precedenti non avrebbe mai potuto essere scritta se non vi fosse stata una contaminazione tra i protagonisti di quei poderosi cambiamenti di affetti e di una grande inusitata allegria che nemmeno una catastro è riuscita a frenare penso ai sorrisi dei ragazzi e delle ragazze che hanno contribuito a salvare Firenze e le sue bellezze dal fango dell'arno esondato quel drammatico 4 novembre 1966 credo sia importante appuntarlo oggi quando un popolo ancora atterrito si chiede con insistenza che cosa accadrà quando questo virus uscirà dai nostri polmoni ed entrerà nei testi di microbiologia che gli studenti di medicina tra dieci anni studieranno e sottolineeranno che cosa rimarrà dovremmo saperlo già non perché è accaduto ma in quanto parte della nostra storia migliore dobbiamo avere coscienza che ogni evento del cammino dell'umanità per quanto terribile e funesto contiene una lezione utile non soltanto a chi è sopravvissuto ma anche soprattutto a chi nascerà quando tutto quello che stiamo drammaticamente vivendo sarà entrato nella memoria di una narrazione passata non si tratta di ripetere il vecchio e abusato detto che non tutto il male viene per nuocere bensì di pensare che l'epidemia che ha colpito il pianeta non deve essere considerata soltanto come un'enorme emergenza sanitaria ma anche come occasione di un grande cambiamento antropologico dal quale verranno anche alcune insperate opportunità che ogni individuo dovrà imparare a declinare secondo la propria cultura la propria disposizione caratteriale la propria disponibilità e che alla fine porterà anche a un miglioramento della percezione di noi stessi e del senso della nostra esistenza se così non dovesse essere avremmo perso l'ho detto e lo ripeto un'occasione straordinaria e irripetibile per conoscerci e per apprezzare ciò che della nostra biografia non sapevamo o non volevamo sapere e che sarà utile per fronteggiare nuove e purtroppo assai prevedibili calamità una conquista importante per dare alla nostra vita un nuovo e insperato valore a questo è servita la vecchia poltrona che mi ha costretto a guardare una volta tanto senza paura quello strano abete con le candeline che ogni tanto si spegnevano forse era l'ultimo specchio rimasto perché potessi guardarmi e contare i miei nei e scoprire che ce n'era qualcuno in più Paolo Crepe con noi al Soul Talk venerdì alle 22.30 in live streaming sul canale YouTube sul profilo e sulla pagina Facebook Jasmine Laurenti ragazzi è stata una corsa bellissima stasera sono riuscita grazie alla vostra presenza esorcizzare la mia stanchezza e in questo modo ad approfittarne prendendo il meglio che può dare un momento del genere proprio di abbandono per essere ancora di più a voi vicina in modo autentico e questo è non vedo l'ora di andare a dormire e buonanotte anche a voi eroi a questo è servito l'appuntamento proprio a resettare i vostri pensieri e a offrirgli stasera un momento di grande grandissimo valore con Paolo Crepe traendo il meglio da questo periodo che è davanti ancora ai nostri occhi e che non si saprà non si sa quando finirà di cui prendere sicuramente il meglio e di cui far tesoro trovando ispirazione ogni giorno che passa e rispolverando quei valori che abbiamo un po' dimenticato ok ci vediamo venerdì al Soul Talk alle 22.30 in live streaming col professor Paolo Crepe e buonanotte dovevo dirvi un'altra cosa ah sì vi ricordo ancora per chi fosse arrivato soltanto ora e rivedrà il video vabbè lo ripeto il 22 appuntamento fantastico con la reunion delle voci dei personaggi che avete amato di più di City Hunter quindi avremo con noi Guido Cavalleri la voce di Rio Patrizia Scianca la voce di Selene Vittorio Bestoso la voce di Falcon e poi ci sono anch'io in versione Creta Jasmineiana Kaori Makimura ci siamo il 22 non mancherai ma certo ragazzi dovete esserci tutti perché è il nostro regalo di Natale per voi assieme a questo grande appuntamento di venerdì prossimo al quale assolutamente dovete esserci non mi dir un gol ragazzi vado è stato molto bello vi abbraccio tutti vado a rinfrancare un po' le energie domani è una giornata altrettanto tosta e gli appuntamenti sono fissati l'agenda l'avete già appuntata qui e lì saluto oltre agli abbonati al canale che ho ricordato a inizio puntata anche Elena Luana Michele Davide Francesco Vincenzo ciao Laura Laura ma sei appena arrivata ti sei appena abbonata che sorpresa e la vedo perché Verdolina guarda mi dice ecco la nuova arrivata Michi Luana l'avevo già nominati Anna ciao Fatina Ale Turra Manu eccoci qua ragazzi è stato bello un abbraccio grande adesso si vado ciao 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 buonanotte ciao 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 ciao